Secondo successo casalingo nella seconda fase per l'Amen Scuola Baschettarezzo che batte a San Lorentino la BNV Juve Pontedera a 63-50. Gli Amaranto che recuperavano Carlo Provenzale e Chibeide rispetto alla trasferta di Lucca tengono la testa della partita per la quasi totalità della gara. L'allungo decisivo avviene però solo nel terzo quarto, quando l'Amen per la prima volta supera la doppia cifra di vantaggio. Nei minuti finali il forcing ospite non produce i risultati sperati, così la SBA amministra il vantaggio chiudendo sul 63-50 finale. Miglior realizzatore della serata, Cutini, autore di 24 punti accompagnati da 11 rimbalzi, ma tutta la formazione retina, pur con percentuali al tiro non eccelse, tra cui spicca in negativo l'11 su 23 ai tiri liberi, ha giocato di squadra senza forzare molte conclusioni dall'arco dei tre punti come accaduto in altre occasioni. Unica nota negativa della serata è l'infortunio al ginocchio di Castellucci nel finale che dovrà essere valutato nei prossimi giorni. Intanto l'Amen godrà di qualche giorno di riposo complice la sosta per le festività pasquali. La SBA tornerà in campo contro il Costone domenica 3 aprile alle 18 al Pala Orlandi di Siena nell'ultima gara di andata della seconda fase. Sono soddisfatto della prestazione dei ragazzi, sono soddisfatto per due o tre motivi. Uno l'ha già detto Massimo, aver visto una difesa dall'inizio alla fine costante con una squadra che comunque ricordiamo nel proprio girone ha fatto 14 punti, sta a significare quella cosa che ti dicevo la settimana scorsa. Cioè innanzitutto i due gironi gold e silver mischiati in questo modo quest'anno hanno creato un po' di problemi. Ciò vuol dire che adesso nel gironcino delle quattro peggiori, delle quattro migliori noi ci possiamo stare perché le squadre con cui ci siamo incontrati dell'altro girone l'abbiamo vitte tutte e una l'abbiamo persa con due punti. Quindi forse abbiamo perso noi e fuori casa. Ma sono soddisfatto al di là della difesa, sono soddisfatto per il cambio del gioco che abbiamo fatto perché abbiamo finalmente sfruttato gli uomini forti che abbiamo come Cutini sotto canestro. Quindi sono arrivati, basta andare a vedere i scout, sono arrivati più palloni all'interno dell'aria che tiri da fuori, cosa che per noi il tiro da fuori sembra che sia un giochino. Quindi io sono soddisfatto che i ragazzi hanno capito qual è la loro potenzialità, cioè quella di fare gruppo e smettere di pensare al proprio tabellino. Questa è la cosa più importante.